Torna, accendiamo il Medioevo, un grande evento che coinvolgerà Licio di Biase e tanti comuni della nostra regione e ci saranno grandi personaggi che parteciperanno. Sì, sono 14 comuni che quest'anno hanno aderito all'iniziativa, l'obiettivo ormai è chiaro, è quello di riscoprire e valorizzare il nostro vasto patrimonio medioevale. La provincia di Pescara ha una ricchezza incredibile, quest'anno siamo usciti anche dai confini della provincia di Pescara, andando fino a San Giovanni in Venera, a Fossa Cesia, perché è un altro di quelle perle della nostra regione. Ci sono tantissimi personaggi che interverranno e che faranno di tutto per valorizzare questo nostro patrimonio. Vogliamo fare qualche nome, ricordare qualche evento in particolare? Ci sarà Vittorio Sgarbi che ormai è un abituai di questa nostra manifestazione, verrà a Penne Città Sant'Angelo, due località con un grandissimo patrimonio medioevale. Poi ci sarà Federico Mocce, Osvaldo Bevilacqua, Sandra Milo, Vincenzo Livieri che continuerà questo suo grandissimo spettacolo dedicato alla cultura della nostra regione. Ci saranno tantissimi altri personaggi, Milo Vallone, che faranno spettacoli e che ci aiuteranno a far rivivere questi luoghi. Quest'anno rispetto agli altri anni faremo anche un piccolo scoop, lo voglio preannunciare, perché chiaramente Pescara non è una città medievale, non ha quasi più niente di medievale, però c'è rimasta una parete che è del 1300 ed è un residuo del Convegno Sant'Agostino e quindi il 20 di luglio faremo un evento molto in serata, molto breve, ma per ricordare appunto questo piccolo elemento medievale anche della città di Pescara.